Con l'approssimarsi dell'autunno, nei tre parchi del Trentino, la natura offre un ultimo emozionante spettacolo prima di prepararsi al lungo letargo invernale. Ne è protagonista assoluto il signore dei boschi, il cervo, che, abbandonate le sue abitudini solitarie, a partire dalla metà di settembre fino a metà di ottobre, entra nel periodo degli amori, esibendosi in un rituale di corteggiamento davvero particolare. Ai margini del bosco, nel mezzo delle radure delle praterie alpine, i cervi adulti iniziano a lanciare i loro richiami amorosi, i cosiddetti bramiti. Il bosco, come una gigantesca cassa armonica, sembra voler amplificare questi sordi e potenti versi, simili a dei mugiti che echeggiano tra i versanti. Richiamo selvatico, misterioso, indimenticabile per attirare le femmine del branco, ma al tempo stesso un preciso avvertimento rivolto agli altri esemplari maschi, con l'obiettivo di allontanarli. Il bramito del cervo è come una promessa di vita quando il bosco va spegnendosi. Nel Parco dello Stelvio, come già da anni, da decine di anni, si propongono diverse escursioni, sia notturne che diurne, per l'avvistamento del cervo e per l'ascolto del cervo. L'ascolto del cervo è un richiamo molto suggestivo, perché si pone nel momento notturno quando tutto diventa silenzioso e quindi riecheggia fortemente questo verso che è il bramito. Quest'anno si svolge proprio una proposta escursionistica molto particolare, non solo nel Parco dello Stelvio, ma anche in tutti i tre parchi del Trentino, quindi oltre allo Stelvio, anche nel Parco da Mello Brenta e nel Parco Paneveggio e Palle di San Martino. Queste escursioni sono estremamente particolari, perché da quest'anno, oltre ad ascoltare il cervo, il bramito del cervo, proviamo anche a osservare i cervi durante la notte attraverso una termocamera e l'avvistamento attraverso la termocamera rende anche questi scorci di vita del cervo molto suggestivi perché li vediamo nei momenti più intimi e quando il cervo si sente al riparo dei nostri sguardi. Il programma prevede il ritrovo presso i centri visitatori dei parchi verso le 18.30, poi a piccoli gruppi per non disturbare gli animali a inizio l'escursione nel bosco. Per info e prenotazioni c'è il portale www.ambientetrentino.it